allora salve amici dell'uncinetto questo brevissimo video solo per dirvi che avrete notato perché vi ha già avvisato lui che mio marito ha creato un canale tutto suo e quindi sloggia dal mio quindi il canale dell'uncinetto rimane solo di uncinetto e si chiamerà appunto alex croce mentre il suo canale si chiamerà natura e bellezza l'abbiamo fatto chiaramente per dividere gli argomenti perché molti di voi condividono diciamo sia la passione di mio marito che la passione per l'uncinetto ma ce ne sono alcuni che giustamente non sono interessati ad entrambi gli argomenti e magari risultava un po scocciante ricevere le notifiche anche di argomenti che non interessavano e quindi abbiamo deciso di separarci ma solo sul canale insomma per renderli per rendere il canale sempre più interessante e gradevole per voi quindi ricordatevi il canale ad adesso in poi si chiamerà soltanto alex croce e si occuperà solo di uncinetto di altre mie passioni come la decorazione insomma tutti e tutti gli altri argomenti che vedete nelle playlist del canale se volete seguire anche pier giorgio e la sua passione per le piante l'orto e la natura iscrivetevi anche a natura e bellezza un bacione ciao apprezzo con nuovi tutorial grazie a tutti